Amici di Catanzaro Sport24.it, appassionati di calcio, un saluto da Andrea D'Agiano. Si recupera la partita della 31esima giornata di campionato tra Cavese e Catanzaro, a seguito purtroppo della scomparsa del tecnico in seconda Antonio Banacore, ex giallorosso, nella stagione di Serie B 2004-2005 a caso del Covid. Partita che si disputerà mercoledì 24 marzo alle ore 14 allo stadio Simonetta Lamberti. Sfida delicata per il Catanzaro che può soffiare il terzo posto al Bari, con la Cavese ultima in classifica, l'ultima vittoria risale a sei turni fa contro la Paganese. Cavese che ha raccolto fino adesso 16 punti, 3 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte. Con 18 gol all'attivo per la Cavese, subiti 38, l'argentino Bubas guida con 5 reti. Cavese e Catanzaro si sono affrontate 20 volte, 4 vittorie per la Cavese e 5 vittorie per il Catanzaro. Andiamo a vedere la probabile formazione di Campilongo per mercoledì pomeriggio. Cavese che si schiera con il classico 4-4-2. Kucic in porta, i due esterni difensivi Senese e Ricchi, i due centrali Matino e Giega, le due ali Natalucci e Senesi, i due mediani Favasoli e Coccorollo, le due punte Bubas e Berosa. Grazie a tutti.